Quello del pasto è un momento conviviale in cui si sta insieme e si confrontano le idee. La cena organizzata alla Casa dei Popoli diventa anche occasione di una sottoscrezione per la FIOM in vista della grande manifestazione del 9 marzo, in difesa dei diritti dei lavoratori. Quello della cena è un momento per stare insieme, diventa anche strumento per una raccolta di fondi per la grande manifestazione del 9 marzo? Certo, è un momento importante per condividere e anche ragionare su quello che sta succedendo e soprattutto per trovare anche i contributi economici che ci permettono di reggere una battaglia molto difficile e per esprimere concretamente anche una solidarietà, una vicinanza in particolare ai lavoratori della FIAT che stanno subendo un vero e proprio ricatto ed un sopruso proprio sul piano democratico e delle libertà personali. Raccogliere le idee, speriamo pure di raccogliere qualche soldo perché è importante esprimere una solidarietà piuttosto concreta. La FIOM sta in un momento particolare di una vertenza fortissima col gruppo FIAT e più in generale un attacco molto forte da parte del Governo nazionale. Per noi era importante testimoniare vicinanza, solidarietà ma anche insomma fatti concreti. È un'organizzazione importante che raccoglie gran parte dei lavoratori meccanici italiani. SEL non può che stare dalla parte della FIOM. Obiettivo fondamentale è la difesa dell'articolo 18 che non può essere sottoposto a trattative. Sì, noi pensiamo che proprio di articolo 18 non c'è bisogno di parlarne. Se proprio si volesse parlarne bisogna estenderlo a chi non ce l'ha e non certo cancellarlo perché se si cancella l'articolo 18 qualsiasi ragionamento sul superamento della precarietà è finto perché è un modo in realtà per rendere licenziabili individualmente le persone che non piacciono alle imprese. Oltre a uno sciopero generale è previsto anche un corteo, una manifestazione? Assolutamente sì, molto brevemente saranno anche due i cortei. La conclusione è piazza San Giovanni anche perché vogliamo riconquistare la piazza di San Giovanni dopo gli episodi negativi che ci sono stati il 15 ottobre e ridarla al popolo democratico di questo paese per chiedere dei cambiamenti non solo di estensione dei diritti ma anche di cambiamento della politica economica perché il problema non è licenziare, il problema è creare lavoro, ridurre la precarietà e dare ai giovani un futuro. L'obiettivo fondamentale è la tutela dell'articolo 18 ma ci sono anche tante altre questioni importanti la qualità del lavoro, la riduzione delle forme di precarietà in ingresso, forme più avanzate e più generalizzate di lotta alla precarietà in uscita dal posto di lavoro e quindi la generalizzazione anche degli ammortizzatori sociali. Insomma c'è l'articolo 18 perché è un fatto di civiltà e poi ci sono un sacco di cose che possono essere fatte per migliorare la condizione di vita dei lavoratori. Tutti i temi strettamente cari a SEL? Tutti i temi cari a SEL, sono cari a SEL tutti i temi che hanno a che fare con la precarietà e con il lavoro, quindi sia il lavoro più tradizionale, quello meccanico degli operai, della Fiat non solo, ma anche della precarietà delle giovani generazioni, di chi oggi non riesce ad avere un reddito minimo e né forme di ammortizzazione sociale.